Sarah Johnson guardava fuori dalla finestra di un grattacielo di Manhattan, avendo appena compiuto 40 anni, i suoi occhi riflettevano un'espressione malinconica, in contrasto con il trambusto di New York, la sua vita era invidiata da molti punto aveva avuto successo nel settore del marketing e stava prosperando come dirigente di un'importante agenzia pubblicitaria punto tuttavia. Nel suo intimo, Sarah ha sempre sentito che le mancava qualcosa, una famiglia calda e affettuosa che desiderava fin dall'infanzia. L'educazione di Sarah è stata tutt'altro che tranquilla punto nata in una piccola città del Connecticut. Perse la madre per cancro all'età di 10 anni. Suo padre, George, era un banchiere di successo a Wall Street punto ma dopo la morte della moglie, si è immerso nel lavoro, occupandosi a malapena di Sarah e del fratello minore, Michael, di 4 anni più piccolo punto perché hai dovuto lasciarci, mamma. La giovane Sarah piangeva notte dopo notte, stringendo la fotografia della madre. L'unico conforto che trovò fu un orologio di lusso che la madre le aveva lasciato punto un pezzo personalizzato di un marchio super premium con inciso mia cara Sarah. Sempre con tè punto Sarah fu costretta a maturare presto. Dopo la scuola, si occupava di fare la spesa, cucinare e fare il bucato, prendendosi cura del fratello minore. Aveva poco tempo per giocare con gli amici e anche i fine settimana erano consumati dalle faccende domestiche punto Sarah, puoi aiutarmi a fare i compiti? Michael lo chiedeva con dolcezza. Certo, ma prima dobbiamo preparare la cena, rispondeva lei con un sorriso. In quei giorni, l'orologio di sua madre era il suo sostegno emotivo punto nei momenti difficili e tristi. Tenendolo stretto al petto le tornava in mente il sorriso gentile di sua madre. Che le dava coraggio punto indossava l'orologio durante gli esami di ammissione all'università e i colloqui di lavoro. Mamma, veglia su di me? Farò del mio meglio. Gli sforzi di Sarah furono ripagati e fu ammessa alla prestigiosa università di Yale. Lì si è appassionata al mondo del marketing dopo la laurea. Si trasferisce a New York e trova lavoro in un'agenzia pubblicitaria. Il suo talento e il suo duro lavoro la rendono rapidamente una figura di rilievo nel settore. All'età di 30 anni, Sarah incontra Tom. Lui era un aspirante musicista dal sorriso affascinante che lei aveva conosciuto dopo un'esibizione dal vivo in un bar.I tuoi occhi sono bellissimi, come un cielo stellato, le disse Tom, innamorandosi immediatamente di lei. Sarah è stata attratta dalla luminosità e dalla gentilezza di Tom, particolarmente colpita dai suoi discorsi appassionati sulla sorella Jessica.Mia sorella è fantastica, davvero. È un'attrice di Broadway. Un giorno te la farò conoscere.Man mano che la relazione di Sarah con Tom progrediva. Cominciò a credere che la famiglia ideale che aveva a lungo sognato potesse finalmente diventare realtà. Sperava che l'amore di Tom per la sua famiglia si sarebbe esteso anche alla loro nuova famiglia.Il matrimonio si tenne sul tetto di un hotel con vista su Central Park. Con lo skyline luminoso di Manhattan come sfondo, Sarah era radiosa nel suo abito da sposa bianco puro.Io, Sarah, prendo te. Tom, come mio sposo. Per amarti e onorarti in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà, e per camminare insieme per sempre. Gli invitati hanno versato lacrime di commozione alle promesse di Sarah.Tuttavia, all'insaputa di tutti, questo momento felice era anche l'inizio di prove imminenti.Inizialmente, la vita coniugale trascorse senza problemi. Sarah faticava a conciliare lavoro e casa, mentre Tom continuava la sua carriera musicale e lavorava part-time. Un anno dopo il matrimonio, i due ebbero la fortuna di avere un bambino.Chiamato Ethan, divenne una nuova luce di speranza per Sarah.Ey, Tom. Ethan non ci assomiglia. Sarah sorrise felice mentre teneva in braccio il neonato.Sì. Davvero? Ma i suoi occhi assomigliano ai tuoi. Diventerà sicuramente un bambino intelligente, rispose Tom con orgoglio.Tuttavia, con la nascita di Ethan, cominciarono a comparire gradualmente delle crepe nel loro rapporto.Tom non era attivo come genitore, lasciando a Sarah tutte le poppate notturne e i cambi di pannolino.Eppure Sarah non si lamentava.Grazie alle sue esperienze infantili, sapeva quanto fosse fondamentale per un bambino la presenza di entrambi i genitori.Va tutto bene.Ethan.La mamma è qui, sussurrava Sarah con dolcezza, mentre la sera tranquillizzava Ethan chi piangeva.Nel frattempo, Tom rimase immerso nella sua musica e il suo tempo a casa diminuì gradualmente.Divenne chiaro che passava la maggior parte del tempo fuori casa con la sorella Jessica.Mi dispiace. Sarah.Oggi Jessica ha ottenuto un nuovo ruolo.Devo festeggiare con lei, diceva Tom.Ma oggi è il giorno dei genitori di Ethan all'asilo.L'avevi promesso.Gli ricordò Sarah.O questo.Mi dispiace.Ma Jessica ha bisogno di me.Lo capisci, vero?Questi scambi divennero sempre più frequenti. Sarah cominciò a preoccuparsi dell'insolita ossessione di Tom per la sorella Jessica.Si sentiva molto delusa dall'atteggiamento di Tom che dava la priorità alla sorella rispetto alla sua.Famiglia.Tuttavia, Sarah mantenne una facciata di calma.Per il bene di Ethan, voleva proteggere la sua famiglia a tutti i costi.Non voleva che suo figlio sperimentasse la solitudine di una famiglia monoparentale che lei aveva sopportato.Un giorno Sarah si trovò di fronte a un incidente scioccante.Tornando dal lavoro, aprì come al solito il cassetto del suo comò.Il prezioso orologio, un ricordo della madre, era scomparso.È strano.Avrebbe dovuto essere qui.Sara cercò in tutta la stanza, ma l'orologio non si trovava da nessuna parte.Ansia e panico le attanagliarono il cuore.In quel momento sentì la porta d'ingresso aprirsi.Tom, sono a casa.Ehi, sai dov'è il mio orologio?Non riesco a trovarlo.Tom esitò un attimo prima di lanciare una notizia bomba.Oh, quello.L'ho dato a Jessica.Lo voleva lei.Sara non poteva credere alle sue orecchie.Cosa?Stai scherzando?Quell'orologio è un ricordo di mia madre.Dovresti saperlo.Lo so.Ma Jessica lo voleva davvero.Inoltre, una bellezza come lei che lo indossa renderebbe felice anche tua madre.Sara non riusciva a trovare le parole.Rabbia e dolore le salivano dentro.Come hai potuto?Come hai potuto fare una cosa del genere?Sai quanto è importante quell'orologio per me.Smettila di assillarmi.È solo un orologio?Tom replicò irritato.Non è solo un orologio.È, è.Non riuscendo a trattenere le lacrime, la voce di Sara tremò.Basta così.Se hai intenzione di assillarlo, anche il divorzio è un'opzione.Le parole di Tom erano fredde e ferirono profondamente il cuore di Sara.In quel momento, Sara decise che non avrebbe più sopportato il dolore.Per la felicità sua e di suo figlio, doveva agire.Il giorno dopo, Sara prese Ethan e tornò nella sua casa d'infanzia.Suo padre, George, sembrò intuire all'istante che qualcosa non andava solo guardando la sua espressione.Sara, stai bene?Che cosa è successo?Tra le lacrime, Sara spiegò la situazione.George sospirò e abbracciò dolcemente la figlia.Non mi ero reso conto di quanto fossi in difficoltà.Non ti lascerò più sola.Confortata dalle parole del padre, Sara versò lacrime di sollievo.Sentiva che le complesse emozioni che aveva covato per anni nei confronti del padre cominciavano lentamente a dissolversi.Poi, inaspettatamente, apparve l'aiuto del fratello minore.Michael, era diventato un avvocato di successo.Sorella, ti sosterrò con tutto me stesso.Faremo in modo che Tom si assuma la responsabilità legale.Grata per le parole di Michael.Il cuore di Sara si riempì di riconoscenza.Il fratello di cui si era presa cura fin dall'infanzia era ora pronto a proteggerla.Sentiva di nuovo la forza dei suoi legami familiari.Un mese dopo, arrivò una telefonata inaspettata da parte di Jessica.Sara, il tuo orologio ha causato la rottura del mio fidanzamento.La voce di Jessica tremava di rabbia.Sara ascoltò con calma.Gessica spiegò che aveva indossato l'orologio di Sara per incontrare i genitori del suo fidanzato.Il padre del suo fidanzato, l'amministratore delegato di un'importante azienda, è rimasto scioccato nel vedere l'orologio.Questo orologio è stato un regalo che ho fatto a una donna straordinaria che lavorava sotto di me.È morta a causa di una malattia, ma ho sentito che è stato trasmesso alla figlia.Non è possibile che tu lo abbia.Presa dal panico, Jessica mentì. L'ho saputo dalla moglie di mio fratello.Tuttavia, l'amministratore delegato non le ha creduto. Ha contattato direttamente Sara per confermare la verità e la vera storia è stata rivelata.Non posso permettere che mio figlio sposi una donna che sottrae un prezioso ricordo alla moglie, di suo fratello.Così il fidanzamento di Jessica fu rotto.Non solo, ma cominciò a sperimentare strani eventi.Da quando ho iniziato a indossare quell'orologio, ho rischiato di fare incidenti d'auto e continuo ad avere incubi.È come se fossi maledetta.Lo restituisco.Non voglio mai più avvicinarmi ad esso.Sara ricevette l'orologio con sentimenti contrastanti.Sollevata per aver riavuto il ricordo di sua madre, non sapeva come andare avanti dopo tutto quello che era successo.Fu allora che Tom apparve all'improvviso. Sara, se vuoi il divorzio, dovrai pagare gli alimenti e dovrai anche lasciare l'appartamento.Sara rispose con calma.Tom, non c'è più bisogno di discuterne.D'ora in poi comunicheremo attraverso gli avvocati.Tom guardò Michael, sorpreso.Non sei il fratellino di mia moglie, Michael. Michael rispose con fermezza.Signor Tom.D'ora in poi rappresenterò Sara come suo avvocato. Le sue azioni sono chiaramente ingiuste e potrebbero essere impugnate legalmente.Tom era visibilmente scosso.Solo perché sei un avvocato non significa che puoi comportarti in modo altezzoso.Non voglio il divorzio, senza il consenso reciproco non può avvenire.Michael rimase composto.Da quando si è sposata, Sara ha sostenuto economicamente la famiglia.Tu non hai collaborato con i genitori e sei stato finanziariamente dipendente da lei.Inoltre, ti sei sbarazzato del suo prezioso ricordo senza permesso.Queste azioni sono valide ragioni per il divorzio.L'atteggiamento di Tom cominciò ad ammorbidirsi mentre il suo panico diventava evidente.Sara, il divorzio è solo uno scherzo, vero?Mi sono sbagliato.Perdonami.Riproviamo.Per il bene di Ethan.Sara rispose con fermezza.È troppo tardi, Tom.Non posso più fidarmi di te.Stò divorziando.Crescerò io Ethan.In seguito, grazie alla mediazione in tribunale,Sara riuscì a divorziare ufficialmente da Tom.La divisione dei beni e il mantenimento dei figli furono concessi e la proprietà dell'appartamento fu confermata a Sara.Inizialmente, Tom era riluttante ad effettuare i pagamenti.Ma quando Michael le mostrò la sua disponibilità a intraprendere un'azione legale, Tom si adeguò con riluttanza.Dopo il divorzio, Sara iniziò un nuovo capitolo della sua vita.Lai e Ethan vivevano in un grattacielo di Manhattan, destreggiandosi tra lavoro e genitorialità.Un giorno, in un piacevole pomeriggio autunnale, portò Ethan al parco.Mamma, spingi l'altalena, esclamò Ethan con gioia.Sara si mise dietro suo figlio e iniziò a spingere delicatamente l'altalena.Le risate di Ethan riempirono il parco.Più in alto.Più in alto, mentre Sara rispondeva alla richiesta del figlio e guardava il cielo, nuvole bianche fluttuavano nel cielo blu.Le venne in mente il volto di sua madre.Mamma, stai guardando? Sto facendo del mio meglio.In quel momento Sara guardò l'orologio.Era il ricordo di sua madre.Le parole incise sul retro le scaldavano ancora il cuore.Mia cara Sara, sempre con te.Sara sorrise.In effetti, sua madre era ancora con lei.E lei era con Ethan.L'amore che si tramanda di generazione in generazione.Questo era il vero legame familiare che Sara sentiva.Nel frattempo, la vita di Tom e Jessica divenne difficile per pagare la divisione dei beni e il mantenimento dei figli.Tom aveva chiesto prestiti a diversi istituti finanziari.In seguito dai rimborsi, dovette lavorare giorno e notte.I sogni di una carriera musicale erano diventati un lontano ricordo.Anche Jessica era gravata da un debito consistente.Conseguenza del suo stile di vita sparzoso.I suoi lavori a Broadway erano diminuiti e lei aveva iniziato a lavorare come subrette nei locali notturni.Ora i due vivevano insieme in un vecchio appartamento di Brooklyn.La gloria di un tempo si era affievolita e le esigenze della vita quotidiana li avevano costantemente rintronati.Perché siamo arrivati a questo?Tom mormorò, tenendosi la testa tra le mani nell'angusta stanza del loro appartamento economico.Mentre si struccava, Jessica rispose con un'espressione amara.Se non fosse stato per quell'orologio?Una maledizione di tutto ciò che proviene da quella donna.Basta, Jessica. Smetti di dare la colpa a Sara.Ce la siamo cercata, disse Tom. Jessica tacque alle parole di Tom.In fondo,entrambi capivano che le loro stesse azioni avevano portato a queste conseguenze.Nel frattempo, la vita di Sara era entrata in una nuova fase.Dopo il divorzio, si impegnò ancora di più nel lavoro.I suoi sforzi furono ripagati e fu promossa a vicepresidente dell'agenzia pubblicitaria.Il suo reddito aumentò notevolmente, permettendole di garantire un'istruzione migliore a Ethan.Anche il padre, George, sosteneva appieno la vita di Sara e si occupava della crescita del nipote.Nei fine settimana George si occupava di Ethan, lasciando a Sara un po' di tempo per riposare.Grazie mille, papà, per esserti preso cura di Ethan.Sara espresse la sua gratitudine.George sorrise dolcemente.Va tutto bene, Sara.Allora non potevo essere presente per voi ragazzi, quindi lasciate che vi sostenga il più possibile adesso.Sentendo i legami familiari rafforzarsi nel tempo.Sara assaporò la sua felicità.Un giorno, Sara ebbe un incontro inaspettato.Durante una riunione per una campagna pubblicitaria presso un'azienda cliente, incontrò Cobb Eon, anch'egli vicepresidente.Paul.Coetaneo di Sara.Era noto per la sua natura gentile e per la sua perspicacia.I due si sono avvicinati grazie al lavoro e alla fine hanno iniziato a conversare personalmente.Lei è una madre straordinaria.Conciliare lavoro e genitorialità deve essere difficile, vero?Paul ha espresso il suo rispetto per lo stile di vita di Sara.Sara ha risposto con un sorriso.Sì, è dura.Ma ci riesco grazie a mio figlio e al sostegno della mia famiglia.Questo è meraviglioso.Stò anche crescendo una figlia da sola.Ho perso mia moglie cinque anni fa.Sara ha sentito un legame dopo aver ascoltato le parole di Paul.Hanno iniziato a condividere le loro esperienze e le loro sfide come genitori single.Col tempo, il rapporto tra Sara e Paul si è approfondito.Hanno presentato i loro figli l'uno all'altro e a volte hanno trascorso le vacanze insieme.Ethan iniziò a chiamare affettuosamente Paul zio Paul e la figlia di Paul, Emily, si affezionò a Sara.Mamma, è divertente giocare con lo zio Paul ed Emily. disse Ethan con gioia.Vedendo suo figlio sorridere, Sara sentì un calore nel cuore.Percepisce che una nuova dinamica familiare sta gradualmente prendendo forma.Il giorno del quarantacinquesimo compleanno di Sara, Paul le chiese di sposarlo.Sara, il tuo incontro ha riportato la gioia nella mia vita.Potremmo percorrere questa vita insieme d'ora in poi?Con le lacrime agli occhi, Sara rispose.Sì, Paul, anch'io provo lo stesso.Il loro matrimonio fu una piccola festa a cui parteciparono solo i familiari e gli amici più stretti.Ethan ed Emily che camminavano con il bouquet hanno scaldato i cuori di tutti i partecipanti.Sara indossava l'orologio ricordo della madre.Durante la cerimonia, ha guardato l'orologio e ha sussurrato nel suo cuore.Mamma, finalmente l'ho trovata.La vera felicità.Dopo il matrimonio, Sara e Paul hanno iniziato la loro vita insieme come una nuova famiglia con i loro figli.All'inizio ci furono degli aggiustamenti, ma con l'attenzione reciproca e la capacità di adattamento dei bambini, costruirono gradualmente una casa stabile.Ethan era diventato un bambino delle medie ed Emily frequentava la prima classe delle elementari.I due andavano d'accordo come fratelli.Mamma, in futuro voglio diventare un avvocato.Come lo zio Michael, voglio aiutare le persone in difficoltà.Vedendo Ethan parlare dei suoi sogni, Sara provò un profondo affetto.Nel frattempo, Emily aveva iniziato a sbocciare con il suo talento artistico.Mamma, Sara, guardate, ho fatto un disegno della nostra famiglia.Nel quadro che Emily aveva disegnato, Sara, Paul, Ethan e lei stessa erano raffigurati con volti sorridenti.Vedendo il disegno, Sara versò lacrime di felicità.Il tempo passò e quando Sara compì 50 anni ricevette una notizia inaspettata.Tom era stato ricoverato in ospedale per cirrosi.Sara, sembra che le condizioni di Tom non siano buone.Ha intenzione di andare a trovarlo?Le chiese l'amica Jennifer.Sara pensò per un po' il passato con Tom era stato doloroso, ma era il padre biologico di Ethan.Col tempo, la rabbia nel cuore di Sara si era ammorbidita.Ethan, tuo padre è stato ricoverato in ospedale.Vuoi andare a trovarlo?Chiese Sara al figlio.Ethan sembrò un po' perplesso.Ma rispose.Sì, andiamo.Quando andarono a trovare Tom in ospedale, Sara rimase scioccata dal suo aspetto drasticamente cambiato.La sua luminosità di un tempo era svanita e giaceva lì, emaciato.Sara,Ethan, sei venuto a trovarmi?Chiese Tom con voce flebile.Sì, siamo venuti.Come stai?Ti senti un po' meglio?Sara lo chiese gentilmente.Non male.Grazie.Tom guardò poi Ethan.Ehi, sei cresciuto molto.Ora sei un bel giovanotto.Ethan rispose con un po' di imbarazzo.Sì,ora sono alle scuole medie.Per un po' di tempo i tre conversarono tranquillamente.Evitarono di parlare del passato e parlarono della situazione attuale di Ethan e della salute di Tom.Mentre se ne andavano, Tom disse a Sara.Sara, mi dispiace davvero.Mi dispiace davvero.Tom si scusò.Sara sentì le emozioni a lungo trattenute dissolversi silenziosamente.Va tutto bene, Tom.Ora riposa.Mentre lasciava l'ospedale, Sara era avvolta da emozioni complesse.Le ferite del passato non erano ancora del tutto guarite, ma riconosceva l'importanza del perdono.Quella sera, a casa, condivise tutto con Paul.Sara, sei una donna veramente forte.Hai superato il tuo passato e stai vivendo guardando avanti.Sono orgoglioso di te.Le disse Paul mentre l'abbracciava dolcemente.Tra le braccia di Paul, Sara provò un senso di sicurezza e riflette sulla sua vita.Aveva affrontato delle difficoltà, ma le aveva superate per arrivare dove era ora.La sua felicità attuale era il risultato di tutte le esperienze passate.Mesi dopo, Tom morì.Sara e Ethan parteciparono al suo funerale.Jessica non c'era.Dopo il funerale, Sara guardò l'orologio ricordo di sua madre.Le lancette dell'orologio continuavano a segnare il tempo con costanza.La vita va avanti proprio come questo orologio.Sara mise via con cura l'orologio.Non era più un ricordo doloroso, ma un'entità preziosa che aveva assistito al viaggio della sua vita.Il tempo passò e Ethan divenne uno studente universitario.Influenzato da Michael.Studiava legge e mirava a diventare avvocato.Emily frequentava il liceo.Affinando ulteriormente il suo talento artistico.Sara si avvicinava ai 60 anni ed era diventata l'amministratore delegato di un'agenzia pubblicitaria stimata nel settore.Un giorno Sara era nel suo ufficio e parlava con una giovane dipendente.Stò lottando per conciliare lavoro e genitorialità, confidò la dipendente.Sara sorrise dolcemente.Non c'è problema, ho passato la stessa cosa.Troviamo insieme una buona soluzione.In quel momento, Sara ha riflettuto sul percorso della sua vita.Aveva superato avversità e difficoltà e ora era in grado di aiutare gli altri.Le sue esperienze stavano dando potere a molte persone.Uscendo dall'ufficio, Sara camminò per le strade di Manhattan.Lo skyline, pieno di edifici imponenti, non era cambiato in 30 anni.Tuttavia, la sua vita era cambiata in modo significativo.Quando arrivò a casa, Polla accolse con un caldo sorriso.Bentornata, Sara.Com'è andata la giornata?Sara rispose felice.È stata una giornata molto soddisfacente. E per te?I due iniziarono a preparare la cena condividendo gli eventi della giornata.Presto Ethan ed Emily tornarono a casa e iniziò il tempo trascorso insieme alla famiglia.Mamma, ho fatto uno stage, disse Ethan entusiasta.Anche Emily era felice.Ho vinto un premio in un concorso d'arte.Mentre Sara osservava con orgoglio la crescita dei suoi figli, improvvisamente si ricordò di sua madre.Si alzò in silenzio e tirò fuori l'orologio ricordo di sua madre.Ethan, Emily, vi ho mai parlato di questo orologio?I bambini guardarono l'orologio con interesse.Era il ricordo di mia madre, di vostra nonna.È qualcosa di prezioso che ha vegliato su di me per molto tempo, Sara lesse le parole incise sul retro dell'orologio.Mia cara Sara, sempre con te.La nonna vegliava sempre sulla mamma, vero? Disse Ethan.Commosso.Gli occhi di Emily brillarono quando aggiunse.Che belle parole.Voglio essere anch'io qualcuno che possa continuare a prendersi cura dei propri cari in questo modo.Polpose una mano sulla spalla di Sara e disse dolcemente.Tua madre sarebbe così orgogliosa.Sei diventata una donna meravigliosa.Sara sorrise tra le lacrime.La sua vita non era stata facile.Ma ora era davvero felice.Tutti i dolori e le sofferenze del passato l'avevano rafforzata e avevano costruito le fondamenta della sua attuale felicità.E l'amore di sua madre l'aveva sempre guidata.Sara si guardò intorno, guardando la sua famiglia.Il suo amorevole marito, il suo affidabile figlio che era cresciuto così tanto, la sua talentuosa figlia.E la presenza di sua madre ancora accanto a lei.Mamma, sono felice.Finalmente ho trovato il calore di una vera famiglia.